Buon pomeriggio a tutti da parte del team John Forex e dal sottoscritto Francesco Cerulo eccoci qua ad analizzare intesa San Paolo, questo qua che vedete è un grafico giornaliero al close di ieri sera, giovedì 16 febbraio 2017, vedete titolo incerto, i prezzi soprattutto incerti in area 2,20, allora io qua ho semplicemente fatto due cose, nel senso primo riferimento dinamico passava, partiva dai minimi post Brexit e si congiungeva come vedete qua con questo minimo, questo altro minimo e così via, qua nelle ultime sedute, nelle ultime giornate di gennaio era avvenuto a 2,27, tra l'altro cross fra statica e dinamica, era avvenuto un break ribassista che aveva poi portato appunto il successivo movimento in area 2,20 prima 2,08 poi, quest'oggi insomma stavo guardando il grafico e ho tirato giù un'altra trendline sempre partendo dai minimi post Brexit e congiungendola poi ai minimi del 28 di novembre, insomma la vedete qua, nelle ultime sedute il titolo qua aveva un pochino diciamo lateralizzato, lo vedete, eccolo qua che ve lo evidenzio, comunque sì i corpi delle candele sono molto molto piccolini, quindi narrow range candle e tenuta comunque sia di questo, di questa trend dinamica, tra l'altro ovviamente c'era stato qua in data 8 febbraio un test in area 2,08, io direi quindi che per le prossime sedute monitorare con attenzione ovviamente la prima area 2,20, livello statico, insomma abbastanza importante, vedete che qua dal passato quante volte sono stati toccati questi livelli, qua era stato diciamo a 2,20, faceva da resistenza, vediamo se questa volta potrebbe fare un po' in maniera sporca, visto appunto il piccolo ribasso qua dei primi di febbraio, potrebbe fare nuovamente da supporto in questo caso, qualora si dovesse verificare quindi una tenuta di questo doppio riferimento statico e dinamico, ecco un pochino di positività potrebbe tornare sul titolo, 2,27 prima, 2,36 poi, tra l'altro qua vi lo evidenzio giusto per, c'è un piccolo veppettino aperto, quindi qualora si dovesse verificare una tenuta del supporto come detto poco fa, ci potrebbero essere 2,27 prima, 2,36 il successivo target rialzista, al contrario, soprattutto io direi un posizionamento ad un close daily in area 2,10, 2,08 potrebbe portare negatività, negatività che si spingerebbe ovviamente ad attaccare i minimi qua fatti, come vi ricordavo in precedenza, mercoledì 8 febbraio, 2,08 prima e poi si scenderebbe in area, 2 euro soia psicologica su Intesa San Polo abbastanza importante, adesso però questo era un grafico end of day, adesso andiamo a vedere invece in diretta, eccolo qua, un grafico orario giusto per darvi un riferimento anche in tra day, questo è un grafico orario, siamo in diretta, sono le 16.47 minuti di venerdì, titolo che sta comunque sia performando in area 2,0, 2,16 e 6, beh direi che visto appunto quello che è successo, lo vedete qua, ecco tutto il ribasso fatto da praticamente dal 16 di febbraio, nel pomeriggio del 16 febbraio aveva portato tutta questa serie di candele rosse, adesso sembra ci sia un piccolo ritorno degli acquisti, beh qua dei riferimenti intraday ci potrebbe essere questo massimo, questo massimo qua in area 2,17 che sta, i pialezzi stanno battendo proprio in questo momento e poi successivamente direi di andare a rivedere qua area 2,19, quindi non ci sono grossissime indicazioni dal grafico intraday in orario, vedete comunque sia appunto la discesa fatta, questa sorta di tenuta, lateralizzazione chiamatela come volete comunque sia la tenuta di quest'area qua in 2,08, 2,10 e adesso il tentativo di ripresa, quindi direi che non cambia niente come visione rispetto a quanto detto su base daily, mi fermo qua, vi ringrazio, vi auguro un buonissimo fine settimana, alla prossima con il Team Vision Forex per la prossima. Grazie a tutti.